Giugizio Italia, Polimeno Zoè, Susenica di Gamburia, Sultatami 2 per la categoria Pagetti, Maschile, 55 kg, Longo Gianmarco, Black Band School, Garthman Christian, Lino Pino Jiu Jitsu Si preparano, Ricciardello Dario, Scaletta Mario Vince il blu, Pinocchiano, Perfui, Ippo A seguire, Altatami 6, categoria PA, Maschi, 31 kg Si preparano, Santoro, Antonio, Giugizio Italia, Carucci, Pietro, Cuscito Vince il blu, Pinocchiano, Perfui, Ippo Pagli 1 si presenti Barbagallo-Campanella Vince, si prepari Nania Margaritello-Pugliese Suttatani 4, Lappo-Francesco-Gianbenedetti-Federico Si preparino per la stessa categoria ragazzi maschile 34.000 Spitalieri-Gabriere-Annunciato Antonio Pagli 1 si presenti Barbagallo-Campanella Pagli 1 si presenti Barbagallo-Campanella Pagli 1 si presenti Barbagallo-Campanella